vai vai scelto proprio il ramo giusto subito facciamo una prova fidelizzazione fidelizzazione da qua se parte il coniglio fa il buco per terra però a saltar di là però a saltar di là a saltar di là e come guarda e non può vederla da lì ha la vista ma è meglio che non ci vada vabbè andiamo avanti andiamo avanti andiamo andati di qua aspetta 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 eh stai lì Roby poi è buona vai Roby piano piano fa fatica perché c'è pochi posatoi guarda qua scavano sotto ma si è riempigliata fa una fatica dalla madonna e soprattutto per la femmina e sta in fianco a me aspetta aspetta lascia andare avanti lascia che vada adesso arriva adesso va su quella pianta lì fa una fatica dalla madonna ecco fanco deve star sempre avanti a te ecco è facile ma no figa è figa ho visto il grigio e il bianco sta attento ce la fai per star su ma secondo me le troviamo le troviamo più avanti brava Gnara vedi che lei è sempre pronta attenta eh ma che guarda come guarda dove vai te cioè bravissima e beh sono le mini eh occio 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 sta attento guarda come deve attaccarsi quella porra bestia lì non sa più dove mettersi vai vai lì la vai lì la è meglio già lì è meglio vai su quella pianta là Vai su quella la, vai su quella la Perfetto Top Eh? Eh? Ssshh 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 Assegni un po' Perché così la sta Perché Vieni, vieni ma lei è visto dov'era? non poteva averlo visto ma lei da lì non l'ha visto? ti è partito giù no? mi faceva vederlo attenzione infatti sono venuto di qua, corri sta di qua adesso devi andare su quella lì aspetta Roby facciamo un passaggio dai domanti aspetta eh ok eh non è male che si raspero perfetto anche se da lì non vede giù se ne va giù uno adesso qua attenzione attenzione no no se io ho pensato che i tuoi si andrà in autostrada oh 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 ha fatto bella bella ti è partito da sotto i piedi è venuta giù impicchiata dal lampione l'hai seguito e l'ha preso a meno penso l'ha preso dov'è che è? è vero che adesso? sono qua, ho scippato le coste qua ostia vedete dove è la tana bella 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 vieni andavano dentro qua? ecco perché dopo non le vedi più Robi Robi bella Robi aspetta amore aspetta amore bella ho fatto una manovra dell'ostia bella 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 bella